sai non ti ho detto tutta la verità su mio marito vedi lui non è morto sette anni fa semplicemente è scomparso compiuti 50 anni cominciò a pensare alla vita al tempo che passava da allora qualcosa in lui si ruppe non fu più lo stesso con gli altri e con me finché non rimasero che poche righe devo andare per scoprire se la vita è davvero tutta qui l'ho odiato e l'odio ancora però però a volte vorrei che tornasse solo per curiosità per sapere se alla fine del suo viaggio ha trovato ciò che cercava ma credo che per certi viaggi non esista una vera fine grazie a tutti